Ho aspettato per fare questo video perché volevo effettivamente capire come si evolvevano un po' le cose che abbiamo fatto la live insieme dove abbiamo visto tanti dettagli di quello che sarà il concerto degli ACDC a Reggio Emilia e ho lasciato dei punti in sospeso in quella live che nel caso vi invito a vedere se avete curiosità su come funziona il concerto, alcuni dettagli vari, ne abbiamo parlato in quella Ma lo sapete qual era il dunque dell'altra volta? Questa vendita di biglietti così improvvisa che finiscono subito al di là dell'evento che chiaramente è un evento enorme e quindi ci sta un po' aspettarsi che i biglietti vadano subito sold out però le dinamiche fanno sempre un po' puzzare la storia e allora come al solito facciamoci una ragionata tanto per capire un po' come sono andate le cose e che cosa aspettarci quindi e qual è la parte più brutta di tutta questa storia e alla fine vi dico anche che però c'è sempre speranza e vi spiego un modo per poter riuscire a trovare i biglietti a prezzo di costo nel caso quindi avete perso i biglietti un modo, una speranza c'è ancora ma di questo ne parliamo alla fine Partiamo dall'inizio, cosa è successo? Gli ECDC hanno annunciato questa data a Reggio Emilia in Italia il 25 maggio 2024 e i biglietti in non nulla vanno sold out Ora è successo anche all'estero però quando si tratta di data evento c'è sempre qualcosa che non convince ed è un fenomeno che si è molto esasperato soprattutto durante la pandemia in altri settori dove c'era tanta crisi dell'offerta di frontone enorme domanda Ora tutto questo si sta spostando o sta tornando per meglio dire anche nei concerti perché è bastata appena una settimana per trovare i biglietti degli ECDC in vendita nei mercati paralleli Ora il mio consiglio è sempre quello di mai acquistare a qualsiasi cifra anche che ve li regalano mai prendere biglietti in questo modo più che altro perché si può rischiare facilmente di restare fuori e questa è una cosa che veramente potrebbe essere anche peggio di non aver trovato il biglietto immaginate là di arrivare davanti ai concerti e vi dicono no questo biglietto non è valido o comunque è stato annullato perché ci possono essere varie fasi in cui il biglietto venga contestato o annullato quindi il primo consiglio è mai anche gratis o meglio gratis dai ma non con la speranza di avere certezza di entrare però come vi dicevo i biglietti sono cominciati a comparire a più del doppio se non il triplo di quanto venivano vendute sui canali ufficiali quindi sono state fatte negli anni tante mosse per contrastare questo fenomeno che a quanto pare non loro si riesce a fermare i motivi potrebbero essere tantissimi sta di fatto che a perderci sono sempre chi alla band ci tiene perché molti di quelli che sono rimasti senza biglietti sono anche tanti fan che magari in quel momento ci stavano ancora pensando magari dovevano organizzarsi magari dovevano trovare il modo chiedere un permesso di lavoro spostarsi, partire eccetera eccetera e magari non potevano prendere quindi il biglietto immediatamente e quindi il dispiacere più grande di tutta questa storia viene proprio da lì la notizia è che comunque si sta provando ad annullare molti dei biglietti venduti dai bagarini che si collega al discorso che vi dicevo prima mai comprare e la speranza di un possibile annullamento potrebbe essere che magari questi biglietti prima o poi compaiono perché di solito vengono anche venduti a pacchetti quindi magari fra un po' torneranno alcuni biglietti certo abbiamo già parlato dei prezzi quelle tre fasce di prezzi quello che ormai si è perso è che il piacere di chi arriva prima o di chi si andava magari a fare il pernottamento di fronte ai cancelli solo per la speranza di arrivare prima perché era chi ci teneva davvero ora con la moneta si riesce a comprare di tutto prezzi folli ma già folli a partire dal settore più lontano quello dove fondamentalmente si vedrà ben poco ci vorrà veramente il binocolo quindi al netto del discorso prezzi al netto del discorso della band che ce lo siamo pure già detto comunque sia sono sempre gli ACDC almeno sulla carta sono una band che ha fatto la storia e quindi il concetto comunque vada sarà mastodontico e poi molti dicono è chiaramente l'ultima occasione per vederli ci sta tutto alla fine poi il discorso dell'arena che alcuni di voi dicevano se era più o meno buona per l'acustica per la forma per le dimensioni per la flusso di persone abbiamo visto dalla mappa che alla fine sembra abbastanza gestibile la cosa però chiaramente si parla di 100.000 biglietti venduti al netto dei bagarini e di qua al momento del concerto probabilmente anche quelli andranno venduti perché è chiaro se loro ci provano sempre significa che c'è qualcuno che compra quindi che dire un po' queste storie mettono sempre un po' di amarezza in generale però lo so che ultimamente ci siamo fatti tanti discorsi e tante riflessioni sono accadute tante cose nelle ultime settimane e quindi molti discorsi sul canale li abbiamo virate sul riflettere su queste cose ma tenetevi pronti che ripartiremo con la produzione arriveranno le recensioni dei dischi perché usciranno Bruce Dickinson usciranno i Priest oltre alle reaction, le live questo già lo sapete il mio invito è sempre quello di iscrivervi per non perdervi nulla di quello che sta per arrivare come per esempio ora in questo video se hai aspettato fino alla fine ti racconto qual è la speranza di poter trovare ancora dei biglietti al prezzo di costo e la speranza la trovi già direttamente sul sito di TicketOne che si chiama FunSale cioè la sezione di TicketOne che permette senza far nulla di più di quello che si fa normalmente quando si acquistano i biglietti di trovare la speranza dove la speranza era andata perduta perché anche che i biglietti vanno esauriti quelli della vendita principale il FunSale non è altro che la vendita che fanno le altre persone però non è che ti vendono direttamente il biglietto semplicemente è come se non rimettessero a disposizione ci penserà a TicketOne stesso al momento della vendita effettiva al prezzo di costo a restituire i soldi al venditore e il biglietto che l'originale viene annullato il nuovo viene riemesso e assegnato al nuovo acquirente tutto in maniera liscia senza problemi e ve lo dico per esperienza perché l'anno scorso ho tenuto d'occhio un bel po' di concerti sold out o col pit sold out e questo è un consiglio anche per esempio col concerto dei Metallica non vi rassegnate che il pit magari non compare più nel canale ufficiale di TicketOne ma andate sul fansail lì probabilmente fino a poche settimane prima ci sarà ancora la speranza di trovare il pit e per gli SDC magari trovare una delle qualsiasi aree chiaramente se volete saperne di più partecipate alle live dove magari ci confrontiamo comunque scrivetelo nei commenti che approfondiamo tutto il discorso però è talmente semplice vi lascio tutti i link in descrizione chiaramente che secondo me ce la farete a primo colpo per il resto che dire come detto prima sarà comunque un concetto enorme speriamo che chi ci tenga ma purtroppo non è riuscito a prendere il biglietto riesca a trovarlo da qua in poi o tramite il fansail o tramite una rivendita di TicketOne o magari riescano a bloccare quelli dei bagarini e rimetterli in vendita potrebbe succedere di tutto quindi l'augurio è che questa situazione si possa risolvere nel migliore dei modi e che il concerto sia enorme come mi aspetto e voi ci sarete al concerto degli SDC? fatemelo sempre sapere nei commenti che ne parliamo approfondiamo tutti i discorsi e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi che per me è veramente un piacere avervi qua alla fine a voi non costa niente ma è una cosa preziosa perché se il canale cresce vi porterò contenuti sempre più grandi questa è una promessa poi se volete approfondire altri discorsi abbiamo il canale gruppo Telegram quindi vi aspetto che dire è stato come sempre un piacere ci vediamo alla prossima